Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avete letto nel titolo qua sotto, torno a fare un video recensione su un manga che mi ha colpito veramente tanto e mi ha dato tantissime sensazioni. Questo video recensione mi è stato chiesto da Pandorina98, che saluto, e mi ha chiesto di recensirle a Silent Voice. Tra l'altro mi sono fatto un piccolo regalo di Natale e me li sono presi tutti. Come vi ricordate avevo solo il primo volume e sono presa dal 2 al numero 7. Così ho potuto leggermeli tutti. Vi faccio vedere le copertine, che sono una più bella dell'altra. Questo è il volume numero 1. Volume numero 2. Volume numero 3. Numero 4. Numero 5. Questa è dolcissima. Numero 6. E per finire il numero 7. Ha fatto tantissimo questo manga, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui Yoshitoki Oima ha trattato il tema del bullismo. Un tema veramente difficile da trattare, soprattutto anche da disegnare. Lei l'ha fatto con una relazione veramente perfetta, che ti colpiva ad ogni pagina, ad ogni volume. Infatti è la prima volta che leggo una serie così velocemente. In un pomeriggio mi sono letta ben 5 volumi. Volevo vedere come andava a finire questa bellissima storia. Devo dire che il finale mi ha colpito molto, avevo sentito che a alcune persone non era piaciuto. Io invece mi è piaciuto veramente tanto il modo in cui ha concluso veramente degnamente questo manga. Sono infatti felice per la protagonista e anche per il protagonista maschile. Ma andiamo per gradi, per chi non lo conoscesse. Allora, la storia parla di Shoe Ishida, che è lui, un ragazzo dall'udito perfetto. Mentre lei è Shoko Nishimiya, scusate per il cognome, non riesco a pronunciarlo molto bene. Una bambina sorda appena trasferitasi da un altro istituto. Si era infatti trasferita ad un altro istituto perché veniva presa in giro diverse volte dai compagni di scuola. Era narrata prima la storia di questi protagonisti da piccoli. E già dal secondo volume li vedremo cresciuti. Quando era piccolo, diciamo che il nostro Shoei apprendeva il fatto di questo problema di questa ragazza come un divertimento. Loro vedevano questi compagni e lui come un divertimento, questo problema di questa ragazza, perché non capivano le difficoltà. Quindi lui gli faceva degli scherzi molto pesanti all'inizio. E la nostra protagonista, però, nonostante venisse presa sempre in giro, maltrattata da lui, lei con un sorriso cercava di rassicurare le persone, cercando di fare amicizia in tutto e per tutto. Infatti la dolcezza veramente conquistante di questa ragazza che ogni volta che cercava in tutti i modi di relazionarsi con gli atti, ma non riuscendoci, anche attraverso l'uso di un quaderno, dove scriveva i suoi pensieri, cosa voleva dire infatti i suoi compagni di classe, loro lo stesso la prendevano in giro. Lei infatti, a causa di questo, di uno scherzo, perché si prenderà anche a pugni con quest'altra ragazza, arriveranno infatti a prendersi proprio a pugni, e si iscriverà a un altro istituto. Due anni da quando Shouya e Shouko non si vedono, e Shouya finalmente riesce a trovare la nostra protagonista. In qualche modo, molto impacciato, attraverso anche il linguaggio e dei segni che lui ha imparato per poter parlare con lei, riesce a chiederle scusa, solo che lui si sente un fallito e secondo lui non c'è alcuna possibilità che lei lo perdoni. Invece la nostra protagonista, lì per lì, si sente molto titubante quando lo vede, lo rivede, e molto spaventata, però vedendo che lui è molto pentito, lei accetta le sue scuse, e accetta anche di fare amicizia con lui. Una cosa che apprezzo tantissimo è il carattere di questa ragazza, che nonostante venga maltrattata in tutto e per tutto, lei non rinunci a sorridere e a cercare di trovare il bello e il buono in tutti, e a perdonarlo, a perdonare tutti e tutto. Anzi, è lei che si sente responsabile per quanto riguarda i fatti accaduti cinque anni prima. È colpa sua che, secondo lei, la classe è rimasta indietro, perché lei non riusciva a seguire le lezioni, e quindi, anzi, scioglie e gli dice, no, non è possibile, perché sono stato io a prenderti in giro, e, anzi, ho imparato il linguaggio dei segni per poter proprio fare amicizia con te e capirti una volta per tutte. E da qui, infatti, partono queste scene veramente deliziose e commoventi tra i nostri due protagonisti. Qui in tutto e per tutto cerca di trovare, è in un buco nero dal quale non riesce a uscire e vede in scioco una via d'uscita, una luce, all'interno di questo tunnel. Il nostro protagonista, da quando ha avuto problemi a relazionarsi con scioco, è stato poi maltrattato dai suoi compagni e isolato, ha cominciato a vedere delle hits davanti a diverse persone. E la hits sta per persone con cui lui non vuole parlare, con cui non riesce a relazionarsi. Eccole qua. E piano piano che lui conoscerà queste persone, che cercherà di comprendere, di avvicinarsi a loro, questa hits scomparirà. Infatti questo è un altro amico di Shoya, che poi diventerà molto importante per lui. Come vedete la hits è caduta e poi ci farà vedere il personaggio. Vi faccio vedere. Eccolo qui. La hits è caduta e vediamo che il protagonista riesce finalmente a vederlo e a poterci dialogare, a vedere che non è proprio un mostro come lui pensava. C'è anche questo fatto di isolamento che il nostro protagonista fa, perché per lui vuole vedere, infatti, come dice qui, vuole vedere il sciocco per l'ultima volta prima di commettere il più estremo dei gesti. E infatti la madre poi lo rimproverà, perché sentendosi un fallito, non avendo più amici, non avendo più uno stimolo per continuare a vivere, e lui voleva uccidersi. Poi grazie all'incontro con Sciocco, vedendo che lei non si è resa, anzi continua a difendere anche la sorellina più piccola, e vedendo che lei è cresciuta, riesce finalmente a trovare una via d'uscita, come vi dicevo prima, del tunnel in Sciocco. Quindi un manga che vi straconsiglio tantissimo per quanto riguarda la lettura. È molto triste, come vi dicevo, però dà tantissimo quando lo finite di leggere. È un manga che dà sensazioni, dolcezza, rabbia, quindi un manga che rimane impresso rispetto a tantissimi manga che ho letto. Bene, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete letto A Silent Voice con un commento qua sotto e cosa ne pensate. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!